Una persona è in stato di fermo a New Orleans negli Stati Uniti perché è sospettata di avere avuto un ruolo nell'incidente causato da un autoveicolo piombato sulla folla che stava festeggiando il carnevale, almeno 28 i feriti. Un portavoce della polizia locale ha detto che si sta verificando se il fermato avesse fatto uso di droghe, ma non ha escluso esplicitamente la causale del terrorismo. L'incidente è avvenuto mentre nel centro della città si erano radunate decine di migliaia di persone per godersi le feste in costume.